Il presidente della BCE, Mario Draghi, incalza l'Italia sulla riduzione del debito, sollecitando un piano credibile. Dalla riunione dei Vertici a Vilnius, Lituania, è emersa una bocciatura dei cosiddetti mini-bot e la proroga di altri sei mesi alla tregua sui futuri rialzi dei tassi di interesse. Non solo nuovi rifinanziamenti agevolati alle banche, che aiuteranno a gestire possibili pressioni e al tempo stesso incentiveranno il credito all'economia. Queste le misure chiave con cui la Banca Centrale Europea ha reagito a un quadro di debolezza dell'economia e dell'inflazione che si sta trascinando più di quanto precedentemente atteso. Abbiamo deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, ha detto il presidente della BCE, Mario Draghi. Ora ci aspettiamo che rimangano ai livelli attuali almeno fino alla prima metà del 2020 e in ogni caso per il tempo necessario a garantire la continua e sostenuta convergenza dell'inflazione a livelli inferiori ma prossimi al 2,0% nel medio termine. Nella conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo, Draghi ha aggiunto che resta la fiducia sullo scenario di base, ma in un contesto di accresciute e prolungate incertezza tra mancati accordi sul commercio tra Stati Uniti e Cina e attesa per la Brexit. Le informazioni più recenti indicano che il vento contrario a livello globale continua a pesare sulle prospettive dell'area euro, ha detto. La prolungata presenza di incertezze legata a fattori geopolitici, la crescente minaccia di protezionismo e vulnerabilità dei mercati emergenti stando lasciando il segno.